La variante Covid-Omicron 2 è stata identificata nel Nord Sardegna e con essa anche i primi quattro casi ufficiali di influenza. Lo confermano i risultati delle indagini effettuate dalla struttura complessa di microbiologia e virologia dell'AU di Sassari, centro regionale per il Covid e come laboratorio InfluNet. Le analisi hanno riguardato i campioni provenienti da varie strutture ospedaliere e dall'attività dei servizi di igiene di Sassari, Alghero, Olbia, Tempio, Ozzieri e Nuoro, rilevando la comparsa di Omicron 2 nel 60% circa dei casi, con il restante 40% che è risultato appartenere alla variante originale. Ormai assente invece la variante Delta, sostituita in brevissimo tempo da Omicron, che si diffonde molto più velocemente. L'altra novità è la ricomparsa del virus influenzale nei campioni che provenivano dal laboratorio di analisi di Ozzieri, dopo che nella scorsa stagione la situazione emergenziale legata alla pandemia di coronavirus ne aveva impedito la diffusione. A contribuire al blocco erano state l'elevata vaccinazione antinfluenzale, il lockdown dovuto alla diffusione del Covid e l'uso massiccio delle mascherine.